infatti è la ferra no comunque quindi adesso vedremo il Paira contro Mitra è uno dei primi match offline che vedo a parte quello in Giappone in cui c'è Paira contro Mitra ottima ottimo utilizzo del brutto AB auto shield da parte di Alessio carica il GB spot doggia per non farsi colpire AB totalmente a caso basta Paira che non prende la palla non è un proiettile che non ha una arma ok 6B per punire la spot doggia per ottima lettura brutto qua sfrutta la super armor Omega per coprire ma chi cazzo è Alessio? Lewis, è Lewis, ho già detto la quinta volta che è Lewis, è di da parte di Alessio GB of State da parte di Omega AB cerca di prendere Alessio ma la Paira Ok Stampio, stampio round 1, è round 2 AB auto shield da parte di Lewis per punire LF Tilt Dismesh brutto utilizzo, lo viene punito da Omega tenta di ehm... si infatti prende la stock con Neutral Beam, ottimo utilizzo comunque della Tui da parte di... da parte di come pianta che lo butta sempre off stage ma lo butta sempre off stage ma di full è sempre da un mio off stage però qua non hanno compito di Tiltra Smash non è ma ne utilizzo sbagliato del Neutral Beam brutte tempistiche qua Omega sta dominando cioè non può davvero fare nulla lo metto lo metto prende una cosa almeno Neutral B operia ma non riesce a punire quanto ha rischiato comunque la palla ha rischiato comunque giusto? cioè nel senso buon utilizzo della palla tramite le platform si si manda off stage non vuole farlo recuperare AB si non riesce proprio a entrare Luis eccolo si infatti comunque c'è per uno ok uccide l'ora la come cus pianta ti mangio tutto 100 1 a 0 per o meno Io dovrei andare contro WinZ, perchè non è se non si è... Che ti è avvento? Tu sai se sei nell'altra parte? Io sono contro Xumi, e voi contro Xumi Felix è migliorato, non è? Andato male nel ultimo episodio E poi c'è un'altra parte Grazie per aver guardato Sì, però ha giocato Oggi non so chi ti picca Era proprio in mezzo Sì, non so Non so, non so Volevo mettendo Sì, non si Non so Spotterò, vedevo Ho visto il primo game che ho fatto Ecco, pick up on Dark Samus Vediamo adesso Ok, Dark Samus contro Questo match dovrebbe essere a favore Dark Samus Oh, dash attack per punire Side B of Sage Rischione Prova la grab Ma non riesce C'è jamming sullo scudo dell'avversario Prova con un nair per scappare da quella situazione Down through into fear Ma non funziona a causa della gravità Della enorme gravità di Pianta Piranha purtroppo Prova con un edge guarding Tenta in tutti i modi di stare lontano all'avversario Da non approcciarlo Che tecnicamente è il pezzo del migliore Non approcciare la pianta Ottimo Derry Buona combo la parte di Alessio Prova adesso con Con il Con il Con il Tenta di caricarlo Aspetta Brutta 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 Comunque Alessio Però non Non connetta Perché flotti Molto flotti È difficile connettere con un PG come Del Samus Buon utilizzo Ha bloccato Quello con un'altra hardbox Ok Buon utilizzo Della grab Dello Zair Della parte di Alessio Lo tiene molto lontano Non lo fa bene Non apprezzo Deve Scappare Brutto Poteva Poteva venire con Una smash sinceramente ok brava brava smash viene punito dal jubicola super armor non usa neanche Meryl per proteggersi da uscire da quella situazione neutral b bravo ottimo utilizzo dai un po' troppo si un po' troppo ottimo utilizzo di nascita si che coloso cos'era come ha preso l'ha preso da sotto ok buon utilizzo il jubic non uccide era vicino a bloodthorn ok buon utilizzo ci sta la situazione ci sta effettivamente ok il jubic bella combo questa volta ha funzionato si deve stare attento perchè qua qualunque lo c'è infatti lo uccida ultimo stop leo seconda rega non urrate peccato ti ha punito con jubic downturn to up in to fail che non funziona adesso luis deve recuperare con una sola stop di svantaggio con una sola svantaggio nozione ok prova con smash da parte di omega carica il jubic ha riuscito a uccidere ma il jubic di piante uccidere percentuali bruttissimi cioè battesime prova a oh ottima lettura bel mix up devo dire ci sta ci sta ok prova a aspettare avversario vede prova a vedere la situazione in questo modo sta utilizzando il jubic in modo da farlo saltare però non capisco che cosa sta facendo eh il tempo è già troppo 10 bombe 10 10 per omega passa il prossimo turno 10 passa adesso andiamo a chiedere un'essere 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 un'essere